Una sgradita sorpresa per il mondo del lavoro nella conversione del decreto 18-2020, il cosiddetto Cura Italia. Una scelta che per Cigelle e Cisleville è incomprensibile. Si cancellano in nome della velocità e della semplificazione quasi tutte le procedure sindacali di confronto dal diritto di informativa all'esame congiunto, alla consultazione. Per il sindacato unitario si sta commettendo un grave errore, aggravato anche dal fatto che le procedure definite dal decreto erano frutto di un passaggio, di un confronto del governo con le parti sindacali che, consapevoli della situazione straordinaria nella quale ci si trova a operare, avevano già dato disponibilità a ridurre ulteriormente i tempi già ridotti delle procedure classiche. Nei tanti confronti sindacali che si sono espletati in queste settimane, il tema non è stato il riconoscimento della legittimità del ricorso alla Cassa stessa, ma piuttosto la possibilità di confrontarsi con le imprese rispetto ad altre modalità di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, eventuale anticipo a carico dell'azienda, riconoscimenti ratei, eventuali integrazioni, soluzioni di smart working. Svilire e ridurre la funzione sindacale in una fase inedita che necessita della maggiore condivisione possibile non è certamente una scelta a favore di quel mondo che dal lavoro e che a parole si intende tutelare. Il mondo del lavoro si aspetta tante risposte dal nuovo decreto, a partire dal rifinanziamento e dall'allungamento degli ammortizzatori sociali e delle misure di sostegno al reddito.